...e qui da adesso partiremo subito con Maffei, quindi comincia ad organizzare i stati progetti. Sì, è un vincitore però, speriamo di... Un vincitore per ogni tema. Non sapevo se veniva un ufficio, un ufficio, un ufficio... Però con meglio, con meglio. Ne parliamo quando vuoi, quando vieni. Se voi li parliamo, li faccio vedere di questa cosa che sono le tematiche, se gli tenete una bella, e io per quello che ti posso aiutare da giuro, che problema. Grazie. 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 Grazie.